Paola Romagnani, direttore di nefrologia e dialisi all'ospedale Meyer di Firenze. Oggi ci parla di cellule staminali, diciamo un po' l'antesignano della medicina personalizzata. Sì, le cellule staminali sono ormai uno strumento che cominciamo a conoscere abbastanza bene e che si inizia a utilizzare addirittura per costruire piccoli organi in laboratorio ancora non utilizzabili per la terapia nell'uomo, ma comunque ci sono studi molto promettenti anche nel campo per esempio delle malattie renali che fanno pensare che fra qualche anno saremo in grado di costruire organi che magari potranno anche essere utilizzabili per i pazienti. Esistono anche altre tecnologie di tipo genetico che sono in corso di analisi e sviluppo? Sì, qui il potenziale sembra addirittura maggiore. Negli ultimi due anni sono state scoperte una serie di tecnologie genetiche che consentono di manipolare il DNA umano andando ad alterare specificamente un gene patologico, ad esempio. Per cui si tratta di tecnologie che sono al momento anche abbastanza controverse perché ovviamente pongono una serie di problematiche etiche rilevanti anche legate alla possibilità di alterare la trasmissione del DNA permanentemente nella specie umana. Quindi andranno accuratamente studiate e regolamentate ma forniscono delle possibilità enormi e a molto breve termine di andare a curare i pazienti attraverso la manipolazione del DNA. Grazie mille. Grazie mille.